Ora più che mai, affari d'oro alla Standa! Con sole 50.000 lire, con gli grandi affari che Standa ti offre in tutti i reparti! Per tutti i bambini da 6 a 90 anni, il fantastico Siga Master System 2! Con un gioco già in memoria, ha sole 99.000 lire! E in eccezionale offerta, la favolosa selezione di cassette gioco Siga Master System 2! Il videogioco dei campioni! Tutti in famiglia a giocare con Siga Master System 2, le partite più vincenti! Siga Master System 2! E il Natale con Standa! Sarà un Natale veramente grandioso! Standa, il valore dei soldi!